Musica Salve ragazzi, oggi vi spiego come fare il tiro a giro su FIFA Mobile Comunque per fare il tiro a giro su FIFA Mobile non è molto difficile Bisogna soltanto premere il tasto tira e abbassare la levetta in giù, verso il basso Così vi farà il tiro a giro, se invece non avverserete la levetta verso il basso Vi farà un tiro normale, ovvero quello di potenza Ora vi andrò a fare una prova nelle campagne Però prima farò un esercizio del Sud America, perché era arrivata lì Comunque, ora andate a vedere il tiro a giro Bisogna soltanto abbassare la levetta come vi farò vedere ora Ciao! 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 Eccoci qua con la palla E ora vi farò vedere proprio qua in partita come si fa Allora andiamo intanto con Nembele Nembele si dribla ovviamente Praticamente bisogna abbassare la levetta Guardate la levetta e la abbassate verso il giù Se la abbassate verso il giù vi farà il tiro a giro come questi Se lo fate in visione attacco sarà molto utile perché sarà un modo per segnare molto velocemente Quindi ve la consiglio E ora vi lascio il video E ora vi lascio la E ora vi lascio la E ora vi lascio i tui Grazie a tutti 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 Grazie a tutti